Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video di news, nuovo video di aggiornamenti su Call of Duty Advanced Warfare Ebbene, è arrivata proprio pochi minuti fa, proprio circa un'oretta fa, la notizia dell'arrivo dei punti doppi Ve ne avevo già parlato e anticipato qualche giorno fa proprio dell'arrivo dei punti doppi in questo fine settimana E proprio la Sledgehammer Games ha annunciato, tramite appunto un'immagine che state vedendo L'arrivo dei doppi punti, quindi del weekend con doppi punti su Call of Duty Advanced Warfare Quindi un weekend che ci preannuncia, o meglio si preannuncia molto divertente in vista del 2 giugno dell'arrivo del DLC Supremacy Quindi praticamente tutti i dettagli sui doppi punti inizieranno oggi ovviamente il 29 maggio e termineranno lunedì 1 giugno Avrei preferito che finissero il 2 così almeno uno giocava alle nuove mappe con i doppi punti Però finiscono lunedì e va bene così, ce li gusteremo almeno oggi venerdì, sabato, domenica e anche un pezzettino di lunedì Fatemi sapere se intanto state giocando ma soprattutto fatemi sapere qui sotto a che prestigio siete E ovviamente lunedì fatemi sapere quanti prestigi avete fatto E se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e condividete il mio video E ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale